Quest'anno, per la giornata mondiale dell'acqua, che celebra appunto questo oro blu, questa importante componente della nostra biosfera, e non solo, si è scelto un tema biologico, un tema vivente, gli anfibi. Gli anfibi, rane, rospi, salamandre, tritoni, sono animali, come dice la parola, dalla doppia vita, amphibios, sono legati all'acqua, per le zone umide, ma soprattutto perché quando sono girini vivono nell'acqua, respirano l'ossigeno sciolto nell'acqua, spesso come un po' fanno i pesci. Si è quindi deciso di dedicare agli anfibi questa giornata perché in tutta la grande crisi di perdita di biodiversità del nostro dolorante pianeta, gli anfibi sono il gruppo più a rischio di tutti. Quindi c'è un simbolo anche di allarme e interesse per chi rischia di scomparire specie animali, dal pianeta o comunque di essere ridotta a essere molto rara. Quindi insieme a uno zoologo che contribuisce in maniera molto attiva, Carlo Rondinini dell'Università della Sapienza, ha proprio la definizione e il confronto di un concetto dinamico di specie rara, di specie a rischio e anche di interventi, efficacia degli interventi e insieme anche al terzo coordinatore, il professor Andrea Rinaldo, si divide tra l'Università di Padova e il prestigioso Istituto Politecnico Federale di Zurigo che da ingegnere colto e internazionalmente estremamente riconosciuto propone anche qualcosa a fare. Ora, rimediare è molto complesso, ma monitorare e anche tentare delle vie di arginare questa scomparsa di specie animali, in questo caso gli anfibi, non solo, col governo delle redi fluviali, con vari spunti, perché proprio con l'indirizzo del Presidente della Commissione Ambiente ha i grandi rischi e certamente la perdita di biodiversità è un rischio enorme, insieme a problemi di riscaldamento globale, desertificazione che entrano pesantemente in questo nostro convegno. Questo, l'indirizzo proprio di Professor Giovanni Seminare e di tutta la Commissione, è quello di non limitarsi a gettare l'allarme, allarmi giustificatissimi, ma anche a proporre qualcosa su come mobilitarsi, anche da un punto di vista qualche volta tecnologico, nell'ambito di una cultura totale che accanto all'insegnare a vedere quali sono al pubblico generale, soprattutto ai giorni, quali sono i temi più scottanti, dà anche un'idea di quali sono i rimedi. Un ultimo punto importante, ci rivolgiamo ai giovani e agli insegnanti, perché oltre ovviamente all'inquinamento, forse alla rarreparazione dello strato di ozono, forse a delle malattie fungine che sterminano gli anfibi, c'è un rispetto generalizzato che va da non molestare questi animali, magari perché alcuni sono molto colorati, molto belli da fotografare o da avvicinare, e quindi c'è un commercio, c'è un bracconaggio di queste specie, magari in paesi poveri, in paesi tropicali, per essere poi messi in una teca in casa, come un animale da appartamento e da arredamento, e dobbiamo, con questo convegno, insegnare soprattutto ai giovani questo rispetto fatto anche del cittadino comune, nei confronti delle specie rare, magari delle specie esotiche, che arrivano di contrabbando in Italia, e che anche portare a casa un girino per allevarlo in una vasca, oggi è qualcosa che da un punto di vista anche legale, ma anche morale, va contrastato.